signora si vede che è stanca no una passeggiata ma se già quali sono state le tappe più interessanti la sopraelevata bellissima bellissima è un'occasione per vederla finalmente genova dalla sopraelevata è stupenda a che ora è arrivata esattamente a luna siamo arrivati a luna qua vabbè poi abbiamo ancora la quattro quanto ci abbiamo messo benissimo grazie a voi è stata dura? no direi di no però il sole picchia col palacone poi picchia più forte come ti chiami? Davide ecco com'è genova vista la sopraelevata? bella bella anche dai monti bella 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 ok grazie ciao Andrea è stata dura? abbastanza il caldo si sente? sono la sopraelevata soprattutto benissimo è stata dura? molto colorata c'è da dire c'è da dire mi piaciuta? tantissimo ma mi è piaciuta Genova vista così dalla sopraelevata? bellissimo bellissimo ma siete di Genova voi? io di Torino io di Genova io di Genova Genova bellissimo mi chiamate? Caterina? Matteo ok grazie fantastico fantastico mi sei divertita? bellissimo sì sì bene bene bello ok grazie bellissimo siete di Genova? siete di Genova? sì sì siamo tutti di Genova ok vi chiamate? io Andrea Virginia è bellissima? Danilo l'anno prossimo di nuovo perché è bellissimo? perché è divertente c'è un sacco di gente vabbè noi corriamo sempre però vabbè è divertente direi molto colorata dalle facce ciao grazie ciao 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 buona settimana? benissimo buona settimana? benissimo bellissima mi è piaciuta tantissimo? tantissimo fa caldo eh? molto sì ecco ma siete in Genova voi? Torino Torino nomi? Vincenzo? Pino ok grazie ciao 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 Rosetta, il nome è strano, lo so. No, bellissimo. Ok, allora complimenti, ciao. Grazie mille, ciao. Com'è andata, com'è andata? Oddio, ma siete coloratissimi di giallo voi. Di più, sì, è l'ultimo punto ci si fa ricapitare. L'ultimo giallo, ma se non è il rosso, il blu, il verde. La rifarete di nuovo? Mille volte, mille. Ah, vi vedo proprio a quarta volta questa. Ah, vi siete proprio sfogati. È troppo bello. Ok, grazie. È stato bello? Un po' stancante. Un po' stancante. Un pochettino, carino, ma un po' stancante. E cosa ne è piaciuto più? Il fatto che sono arrivato vivo. Ah, ecco l'ora. Ho sofferto il caldo più che altro. Eh, sì, non è che mi sono fatto la doccia, si vede, non è proprio. È un po' di sudore. È molto colorato, vedi? Sì, quello sì. Sì, sì, comunque è uno spettacolo a Genova. Sì, molto, molto. Così è bellissimo, ma lo è sempre, però così particolarmente. No, però anche dalla sopraelevata. Dalla sopraelevata è una cosa pazzesca. Infatti rischio sempre l'incidente per rallentare quando faccio la patria di macchina. E invece questa? Così è meglio. E lo canziono. Così è decisamente meglio. Grazie. Allora, si è stancata? No, bello, bello. Stupendo. Stupendo, stupendo. Ok, è la prima volta che partecipa? Alla Color Run, sì. Ah, benissimo. Allora, hai visto Genova da lato? Sì, sì, sì. Una cosa meravigliosa. La facciamo con la mezza di Genova, quindi di Genova la conosciamo, però è bello, una bella esperienza, divertente. Divertente soprattutto, ok. Grazie. Grazie. Allora, la vedo particolarmente divertita, è colorata, è tutto colorato. Bellissima. Si è stancato molto? Sì, ho sempre corso da inizio alla fine. Eh. E' bello che mi sono stancato anche un'ora prima della partenza a ballare e cantare. Ah, ecco, quindi ha scaricato prima tutte le energie. Sì, sì, sì. Bella, bella. Vai, viene dal Piemonte, dai. Da Torino. Da Torino. Siete tanti di Torino, da Cuneo. Eh, ma ci piace proprio questa festa, allora le giriamo un po' tutte. E poi è un'occasione per vedere Genova dall'alto. Sì, sì, bellissima, Genova. Ok, grazie. Com'è andata, com'è andata? Benissimo, sono distrutto. Eh, vi vedi. Sì, stanchi siamo. Siete stanchi? Sì, stanchi siamo. L'avete sempre corso, così. Sì, sì, stancho. Sì, 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 sì. Ah, sì che stancho. Ah, i nomi, i nomi? Michele, Michele. Paolo. Ok, complimenti. Grazie, bravo, figa. Allora, siete di Genova? Sì. Eh, vi siete divertiti? Sì, un sacco. Ok, è stato faticoso. Bellissima esperienza. È stato faticoso? No, non troppo, dai. Ah, no. Più giusto, giusto. Mi siete anche divertiti, dai. Ok, ciao. Gravide. Cristian. Mi chiamavo. Ah, mi chiamavo. Eh, ma siete gemelli? Sì, sì, sì. Ah, no, no, no. No, no, no. No, mi assomigliate tantissimo. Ebbene, quello lì su parrucchiere. Ok, allora, prima volta che partecipate? Io un'altra volta a Firenze. Io sì, la prima volta. Ma da dove venite? Da Pisa. Ah, da Pisa, infatti, siete l'ocento. E vi è piaciuta Genova vista dall'alto, dalla Sottola Levante? Sì, 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 sì. Molto bella. Per quanto abbiamo visto, bella. Ah, ok, è perché è fatica, eh? Sotto il sole. Molto bello. Ok, allora, complimenti. Grazie. Alice. Stefano. Da dove venite? Da Rapallo. Da Rapallo. Da Rapallo. Ah, da Rapallo? Sì. Benissimo. Mi è piaciuta Genova vista così da sopraelevata? Sì, sì. Mi siete divertiti? Molto. Stancati? No, poco. No, vai, soprattutto divertiti, dai. Allora, alla prossima. Grazie. Mi chiami? Valentina, è stato faticoso? Ma io non mi alleno, quindi non è valido. Ma non è importante essere all'età? No, è fatti bellissima. Lei è una cosa divertente? Fatti bellissima, andando a posto un po' svelto. Ok, allora, la prossima volta la faccio anch'io. Sì, sicuramente. Ok. Alberto. È stato faticoso? Abbastanza, c'è caldo, però è bellissimo. È bellissimo, perché è bello, perché aggrega. Sì, aggrega, divertente, i bambini si divertono, puoi camminare, correre, c'è la musica. È bellissima, veramente. Ok, ok, grazie, grazie. Chiami? Giulio. Ti sei divertito molto? Moltissimo, moltissimo. Ok, però è anche un po' faticoso, oppure... Eh, si può scegliere. È una cosa fattibile? Fattibile, fattibile, assolutamente. Ok, benissimo. Allora, grazie. Grazie a lei. Aurora. Beatrice. Siete stanche? Sì, sì. Stavate crollando? Sì. Ma, allora, siete più stanche o più divertite? Divertite. Divertite. Dai, dai, è stato divertente. Sì. Ok, allora... È un'esperienza unica. La rifarete? Sì, sì, certo. Sì, dai. Ok, ciao. Peppe? Allora, è più stanco o più divertito? Ah, molto più divertito, la stanchezza. Ah, le piace questa manifestazione? Ma è di Genova, lei? Sì, sono genovese. Ah, benissimo. Un'occasione per vedere anche Genova. Assolutamente. Per farla vedere fuori anche a chi non è genovese. Ok, allora, grazie. Vi sono tutto colorato di giallo. Grazie. Come mai vi hanno colorato di giallo all'ultimo momento? Sì, hanno visto che eravamo delle pagine bianche, allora non li gherbavamo. Ah, ecco perché. Ma ci hanno pitturato. Ecco perché. Non siete di Genova, però? Io sono di Genova, tantissimo. Ah, sento l'accento un po' toscano. Sono di Livorno. Ah, ecco. Ma io, io di Milano. Lei è milanese e io di Livorno. Però lei è la mia figliola, eh? Ah, ecco, mi è piaciuta questa manifestazione. Bellissimo, bellissimo, da ripetere. È più stancante o è più divertente? No, divertente. Divertente. Ok, allora grazie. Ciao. Insomma, vi vedo stravolte. È stato divertente? Sì, molto. Eh, però lei mi sembra tanto stancata. No, dai. Ti sei più divertita o più stancata? Divertita. Dai, su. No, dai. I nomi? Cecilia. Carolina. Karin. Ok, grazie. Vi chiamate? Beatrice. Arianna. Eh, siete compagni di scuola? Sì, amici. Vi siete stancate parecchio? No, c'era un po' di sole. Eh, vi siete divertite parecchie? Eh, parecchio. No, molto, molto. Ok, grazie. Ciao. 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 Elena e Lea. Ah, vedo che avete portato anche un bambino, ma è stato faticoso anche con la carattina. No. No? E' stato divertente. Abbiamo corso sempre, siamo chiarissime. Benissimo. E ora ci mettiamo una birra contro l'accelalato. Buongiorno, via. Va bene, grazie. Complimenti anche a lui, eh. Barberi sul fondo. Enrico Barberi. Emanuele Aseli. Venite da? Torino. Ah, da Torino. Benissimo, vi è piaciuta Genova in questo contesto? Sì, 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 assolutamente. Vi siete divertiti. Ben organizzato, ottimo servizio d'ordine e di assistenza. Meno male, finalmente sentiamo a parlare bene di Genova. Complimenti, infatti, complimenti. Grazie, grazie. Giuseppe. Vedo che ha il fiatone. È stato faticoso. Hai fatto una magatona in vita mia. Sono contento di averla completata. Ah, è su, il portato. Sono assolutamente fuori forma. Eh, vabbè, dai, però questa è l'occasione per ricominciare. Assolutamente sì, un'ottima occasione. Sono molto contento, molto efficace. Non sei in Genova? No, Novi Ligure. Sono venuto apposta. Benissimo. Ok, grazie. Gianni. Ecco, ma da dove arriva, così muscoloso? Ah, da Genova. Sono di qua, sì. Ma dove si allena? Da nessuna parte. Ma, complimenti. Fai da te. Tutto colorato, è stato faticoso? Abbastanza, soprattutto perché sono fuori allenamento. Però è divertentissimo. Ma è divertente? Assolutamente. Ha preso mica la bomba energetica? No, ho preso niente. Sono sano, non prendo niente di niente. Tutto naturale. Fai le salame. Esatto. E pasta asciutta. Ok, grazie. Saluto. Io sono Andrea. Iulicia. Allora, è stato faticoso? Sì, abbastanza. Noi siamo un gruppo di amici di una pubblica assistenza, volontari. E siamo venuti tutti insieme come amici. È molto di più che una corsa. Per noi è un momento un po' diverso rispetto al solito soccorso sanitario che facciamo. Per noi è un momento importante. Questa corsa poi ha anche uno scopo benefico, se non sbaglio, no? Sì, credo di sì. Sì, sì, va delle on-loose locali. Sì, sì, sì. Ma da dove venite? Noi siamo qua in periferia di Genova, siamo abbastanza vicini. Ah, benissimo. Allora, complimenti, dai. Grazie. Grazie a voi. Allora, com'è andata? Benissimo, benissimo. Siete divertiti? Tantissimo, tantissimo. Bellissima musga, bellissimo ambiente. Pavoroso. Ma non siete di Genova voi? Io sì, lei è tedesca. Io, tedesca. Oh, tedesca! Molto bello allora. Bella Genova? Sì, bellissima. Bellissima. Ok. Ho fatto bene, ho organizzato... Organizzato molto bene. Se lo dice una tedesca, ci crediamo. Io tanto, è vero. Ci crediamo. Ok, grazie. Ciao, ciao. Mondo vii, mondo vii, noi vediamo noi venendo a Mondo vii. Mondo vii, mondo vii, noi vediamo noi venendo a Mondo vii. Mondo vii... I nomi e nomi. Marco. Luca. Federico. Luca. Lorenzo. Federico. Giacopo. Gigione. Viva Mondovì! Camilla. Federico. Siete di Genova? No, di La Spezia. Di La Spezia, vi è piaciuta la manifestazione? Molto, moltissimo, ritorneremo alla prossima manifestazione. È stato organizzato bene? Sì, molto. Qual è stato il momento più divertente? Adesso. Adesso, non viene, no. No, no, il concerto. Il concerto? Ah, mentre... Prima della partenza. Ah, prima della partenza. Però anche la partenza è stata molto bella, l'attesa, tutta la musica. Sì, lo rifarete. Sì, lo rifaremo sicuramente. Grazie. Grazie. Fai questo qua, su. Allora, i nomi vi chiamate? Sono soldi. Ah, ho capito, ho capito, sì, sì. Può dire lei? Cosa? I suoi nomi? Nome. Gianni. Massimo. Massimo. Luca. Luca. Tiziana. Tiziana. Occiana. 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 E' piaciuto? Piaciuto. Sì. Bello. Bello. Molto bello, molto bello. Ok. Lo rifaranno? Volete rifare? Sì. 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 Molto divertente. Ok. Grazie. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Allora, vi chiamate? Mirko e Michaela. Mirko e Michaela, padre e figlio? Padre e figlia. E' stata bella questa esperienza? Bellissima, bellissima. Poi nella propria città è bellissima, molto bella, fantastico. Certo, sì. E' la prima volta che hai partecipato? Prima volta, prima volta. Prima volta, prima volta. Allora vi siete divertiti? Tantissimo. Quindi lo rifaremo? Lo consigliamo a tutti. Vabbè, ok, grazie. Allora, si chiama? Chiara. Sei divertita? Sì, molto. Ecco, qual è stato il momento più duro? Nessuno. È semplice. Semplice. Questi sono i nostri amici. Mi chiamate? Danilo. Mattia. Giada. Silvia. Stefano. Daniele. Giorgia. Tutti i compagni di scuola o amici? Amici. Amici. Ti chiedi, Gio, va? No, di Cuneo. Di Cuneo. Anche voi di Cuneo. Complimenti. Di Brossasco con furore. Come? Di Brossasco con furore. Brossasco, vabbiamo a Brossasco. Ciao, ciao, ciao. Roberto, Walter, Federica, Daniela, Sandra. Siete in Genova? Sì. Allora, è stato faticoso? No. Bellissimo, divertissimo. Nessuno di voi ha avuto qualche cedimento durante... No, veramente. Siamo attletissimi. Siamo attletissimi, non si vede? E allora la rifarete, no? Assolutamente, sicuramente. Ok. È già la seconda. Siamo più numerosi. Ok, allora complimenti. Alla prossima. Ciao. Allora, il vostro gruppo? Eh, sono la... Mi hanno abbandonato. Dai, ti chiami? Allora. Da dove vieni? Da Aquiterme, in Piemonte. Da Aquiterme. Siete parecchi che venite da Aquiterme? Eh, sì, sì. Sì, ok. Allora... È stato divertente? Sì, sì, è stato veramente bello. Quindi la rifarai? No, penso di sì. Dai, ok, grazie. Chiara, Pino, Alessandra. Siete tutti amici? Sì. Ecco, e siete di Genova? Sì. È la prima volta che partecipate? Sì, bellissimo. Sì, molto bello, bellissimo. Perché vi è piaciuto il modo particolare? Per i colori. Ah, per i colori, la atmosfera. E finalmente qualcosa di carino anche a Genova, qualcosa di simpatico. Tra l'altro, mi hanno detto che è stata organizzata benissimo. Benissimo, fantastico, divertente, grandi, bambini, adulti, ci siamo divertiti tutti. Ok. È augurato il mio compleanno, quindi abbiamo più aspettato bene. E quindi augurò di quanti anni si può dire? 27. 27? Benissimo, grazie. Grazie a te, grazie. Cosa festeggiamo? I puffi oggi? Sì. Allora, no, siete carinissimi con questo azzurro. Vi siete divertiti? Sì, molto. Siete di Genova? Albenga. Ah, di Albenga, ok. Vi chiamate? Chiara. Daniele. Ok, allora, niente, visto che vi siete divertiti, la rifarete? Sì. Ovvio. Ok, allora grazie per la collaborazione. Ciao. 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 Grazie a tutti.